L'anno 2018, il giorno 1 del mese di giugno, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, presta uno giuramento, il Professore Avvocato Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Grazie. Grazie. Grazie.